La Gran Sasso Acqua ha avviato in questi giorni il cantiere per la realizzazione dei sottoservizi nella zona di San Marciano in pieno centro storico. Si ratta del secondo lotto del secondo stralcio che include una vasta area che si estende da piazza San Marciano fino a costeggiare a sud un tratto di via 20 Settembre e a nord fino al ridosso di via Garibaldi. L'aspetto importante è la ripresa dei lavori, erano fermi dal 2021. Oggi il presidente della Gran Sasso Acqua Evo Pagliari con l'ingegner Mario Di Gregorio, direttore tecnico e Ruppo Marta Fiorelli, ha illustrato i dettagli tecnici dell'opera. Si è spiegato che i lavori erano stati consegnati in realtà nel 2020, poi ci sono stati dei problemi a caso delle interferenze con le varie reti presenti per cui si è eliminato quasi dappertutto nel progetto il tunnel tenuto solo nelle strade più grandi usando una metodologia diversa per far coesistere attività e residenti. In particolare il tunnel sarà realizzato solo su viale Giovanni XXIII, viale Duca degli Abruzzi, via 20 Settembre e via San Lustio. Anche l'altra metodologia che interesserà tutte le altre strade tuttavia consentirà operazioni di manutenzione senza compromettere il manto stradale. Questa è la ripresa dei lavori che erano stati interrotti nel 2021, sicuramente è un passaggio in avanti molto importante per la ripresa del secondo stralcio. Dopo le prescrizioni impartite un po' dal Comune che riguardavano un po' la parte diciamo urbanistica, ambientale e anche della viabilità, con gli uffici comunali con cui c'è stata una collaborazione veramente importante, siamo riusciti a mettere in piedi appunto questa ripartenza sostanzialmente che prevederà, che è già previsto insomma la ripartenza del secondo lotto del secondo stralcio e a giugno a settembre vedrà la ripresa degli altri due lotti.